Estra consolida la crescita e si conferma il maggior gruppo energetico dell'Italia centrale. La società ha chiuso il 2015 con 839 milioni di euro di ricavi e un utile netto di 34 milioni, più del triplo rispetto al 2014. Ecco la casa Smart di Estra, un'abitazione ad alto risparmio energetico dotata dei più avanzati dispositivi tecnologici per controllare e monitorare anche dall'esterno i consumi domestici. Aumentano i clienti di Estra la Multi Utility, a venduto gas e energia elettrica a 530 mila utenti, con quasi 90 mila contratti in più. Anche Estra, tra i big chiamati a Roma d'Alconi, alla Scuola dello Sport, per presentare alle federazioni Estra Sport Club, modello di buona pratica sportiva, fatto da 36 società e 5500 atleti. Aumentano i clienti di Estra, tra i big chiamati a Roma. Grazie per la visione!